Se le tue credenziali di speed sono state bloccate o sospese, per riattivarle devi collegarti all'indirizzo selfcarespid.aruba.ita. Nei rispettivi campi inserisci nome utente e password del tuo speed e accedi. Dal menu a tendina seleziona il dispositivo associato al tuo speed. Nel campo sottostante inserisci il codice OTP generato tramite lo stesso dispositivo. Una volta eseguito l'accesso, a destra della schermata clicca su Riattiva identità. Nel campo indicato inserisci il codice di emergenza, lo stesso che ti è stato inviato in fase di registrazione di Aruba ID. La prima parte è per email, la seconda per sms. In caso di smarrimento del codice di emergenza ti consiglio di consultare il tutorial dedicato per il recupero. Clicca sopra l'icona a forma di occhio se vuoi visualizzare il codice in chiaro e procedi. La tua identità digitale è stata riattivata con successo.